Una vita tanto tempo fa, nel 1950. Quando i nonni erano piccoli era vietato portare i giocattoli in classe. Però qualche bambino portava i giocattoli in classe. E ci giocava durante le lezioni. La maestra ritirava i giocattoli e li metteva in una borsa nera. Alla fine dell'anno portava i giocattoli in collegio. I nonni, quando erano piccoli, si lavavano nella tinozza. La tinozza era vicino alla stufa in cucina. L'acqua veniva scaldata sulla stufa. Quando i nonni andavano a scuola facevano tutto da seduti. Facevano da seduti addirittura la ginnastica. Passavano la palla da seduti. Alzavano e abbassavano le braccia. Si accontentavano tantissimo. E alla fine ridevano. I nonni. I nonni. I nonni. I nonni. E vi...